Laura Giovannelli che ci presenta agli ospiti studio. Certamente, buonasera anche a te Daniele. Un saluto al dottor Miledi da casa ovviamente. Cominciamo subito dal Nino Ciotoli che è qui da tantissimi anni ormai, subito dopo Lino Drogeo, Giordano Liburdi, Grazia Guerra, il mister Maurizio Caffolla, ovviamente Daniele Velli, e poi abbiamo lo zio anche di Giordano, Lorenzo Liburdi, che ormai ci delizia della sua grande passione per la Roma. E poi abbiamo una novità, una new entry, Mario Bracaglia, che ne lo sono scritto questo nome tra l'altro, chiamato anche Brandon Bragin. Puoi dire perché? Ti dispiace? Allora, buonasera a tutti quanti, questo nome è il nome d'arte, quindi Brandon vuol dire guerriero, una persona determinata, una traduta anche artisticamente. Bene, allora un applauso anche per questo ragazzo. E ovviamente abbiamo la nostra, certo, e poi abbiamo la novità questa sera all'inizio, il video che sarà mandato in onda come trasmissione della grande cantante Grazia Guerra. Bravissima, grazia.